Numero 8 Retro cosce colpacci Una gamba resta flessa, l'altra va sul pallone, fletto il ginocchio, ombelico verso la colonna e vado a prendere la punta del piede. La testa non va giù, porto la punta del piede verso di me e allungo leggermente la gamba, ma il ginocchio resta flesso. Inspiro ed espiro portando l'aria nella pancia come se ci fosse un palloncino da 4 a 8 respiri. Inspiro 1 fuori l'aria 2 3 4 Inspiro Ispirando sciolgo la posizione e vado all'altra parte. Gino a più flesso mi allungo e vado a prendere la punta. La punta la porto verso di me. Allungo e mantengo la posizione da 4 a 8 respiri. Inspiro 1 fuori l'aria Inspiro 2 Inspiro 3 Inspiro 4 prendo l'aria Espirando sciolgo la posizione e questo era l'8 Ciao Ciao!